Sono qua con il senatore Mario Ferrara della Commissione di bilancio del Senato. Senatore, come la vede questa campagna elettorale qui a Palermo? La campagna elettorale della normalità, una a Palermo ancora più normale di prima. Noi siamo per un sindaco di una città normale, del motivo per cui già 5 anni fa abbiamo chiesto alla città di votare Diego Camberanta, ci siamo riusciti, abbiamo dato alla città, abbiamo potuto dare alla città una buona amministrazione, sicuramente ancora per i 5 anni i palermitanti potranno gioire di questa partecipazione politica. Grazie a tutti, grazie a tutti e a tutti e a tutti.